Una lunga estate torrida con la quarta dose del vaccino anti-covid da protagonista. Eppure noi siamo qui oggi a Bari per raccontare l'epigenetica, una nuova scienza applicata alla medicina e alla prevenzione che può cambiare il paradigma di approccio. E tutto questo parte dalla medicina veterinaria per poi trasmigrare sulla medicina umana. I maggiori esperti nazionali a confronto in una tavola rotonda. L'epigenetica sono i fattori ambientali che influenzano la nostra salute. Tutti i fattori ambientali, quello che mangiamo, quello che beviamo, quello che respiriamo, influenzano la nostra salute attraverso l'informazione che dà. Cambiato il concetto di prevenzione. Prevenzione oggi non vuol dire scoprire il tumore quando è piccolo. Cercare di non far venire il tumore. Noi possiamo oggi prenderci a cuore della salute di cani, gatti e soprattutto anche dei cavalli per esempio per migliorare la qualità della loro vita, quindi l'ambiente dove vivono, quello che mangiano. E perché no anche le emozioni, perché anche i nostri animali hanno emozioni. Quindi possiamo assolutamente lavorare a 360 gradi grazie alla presentazione di questo dispositivo che è un device unico al mondo per una mappatura epigenetica che ci permette di conoscere quali sono i fattori che condizionano la salute dei nostri animali. Sono fortunato perché l'ho raccolto sia negli animali sia nei uomini. Veramente ho trovato dei risultati straordinari perché trovare in un paziente che aveva una ipersensibilità allo smog elettromagnetico, lui e il suo cane avevano come veramente ipersensibilità a questo smog per me è stata una cosa, forse saremmo tra i primi al mondo di aver fatto una cosa del genere. Siamo arrivati a questo device S-Drive che parte dall'azienda Cell World Bank a livello mondiale che si permette grazie al bulbo del capello per gli umani ma dal pelo degli animali di mappare tutti i fattori che condizionano la salute delle persone.